Io pensavo che fosse il tuo ultimo incarico Non rischioma che il nostro cliente venga compromesso Fuentes, dalle immagini, fino all'11 settembre era collegato alla DEA Gestisce il più grande traffico d'armi dall'ex Unione Sovietica in Panama Chi era nella squadra con voi? Il contatto è iniziato a muoversi Il contatto è prelevato, un mio prigioniero nel mio campo ha continuato a Teno Questo non è un semplice colletto bianco, ma un agente scelta le mie dipendenze Qualsiasi cosa faccia lui deve passare per me Dimmi, siamo compromessi? E i corrieri? Siamo tutti in pericolo E' un avvicinamento E come fate ad eludere il controllo dei due canali al giorno? Sono voluti anni per arrivare al livello dell'ezione E non starò di certo qui a raccontare i nostri segreti a lei Ehi, dove la portate? Scusate Ehi, come te guarda, non fare la puta con me O' niente Ehi, come te guarda, non fare le mie stai dicendo Che un solo uomo è l'artificio di questo capo lavoro Io, Enrique González Representante di questa nazione Les aseguro Che non hai ningún peligro Un ataque terrorista incluso Ehi, come te guarda, non fare le mie stai dicendo